Oh 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 Quante volte vi devo dire di non fumare in macchina Poi per svuotare il portacene è sempre il solito casino Muoverò la mano va Oh 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 Mi raccomando talent è La selezione deve essere spietata I nomi che usciranno dal cervello Devono essere quelli dei migliori elementi dell'arma È impossibile sbagliare Questo cervello elettronico Ha memorizzato tutti i dati relativi ai nomi dei carabinieri attualmente in servizio, è vero? Il margine d'errore è dello 0,04%. Lui non sbaglia mai, è vero? E quando sbaglia, la colpa è soltanto ed esclusivamente sua. Questo è un gioiello della precisione tecnologica, è vero? Allora, posso stare tranquillo? Ho tutto sotto controllo elettronico, è vero? Appena ho i nomi, le farò per venire le schede. Riturato, selezione degli orie elementi, dotazione, arma, anche a Saradeo, se ne ce ne gustavo. Guardiamoli bene in viso i primi selezionati. Carabinieri, Alkes e Senzer. Tu li conosci? Rappaggione? Sì signore, sono tutti i miei figli. E come sono? Buoni, sono militi gastronomici. Non toccare i reperti! Che sono? Sono Wüstel. Ma se ne vendono in Italia di questi? Decine di tonnellate. E io non me ne posso mangiare neanche uno? No! Non li ho ancora esaminati. Essi prestano facilmente alle sofisticazioni. Non toccare i reperti! Mamma mia, che sono? Sorgellati! Questi sono pericolosi anche a toccarli! Mamma mia, che è senzer, cosa fai? Come cosa faccio? Mi son fatto un uovo genuino. Visto che con te non si può mangiare niente? Almeno mi mangio questo. Mica sono scemmo, sai? Mica l'hai fatto tu quell'uovo. L'hai rubato dai reperti. Ma che sono questi reperti? I reperti sono... sono reperti! E tu ti sentirai male. Non ho mai sentito un sardio parlare in barese. Si dice reparti e non reperti. Reparto salsiccia, reparto formaggi, reparto fagioli, reparto Wüstel, reparto sul gelati, reparto uova, reparto... mamma mia! Che cosa c'è? Mi sta venendo un intortogliamento di pancia. Ah, ti sta bene. Così impari a mangiarti i reperti. Vai, vai, vai a intro, brutto disgrazi, aughi non sensato. Mi pare un uguardo, tu morrendo. Ma che non sei dicendo che è ingrandiato? Io sto male! Ah, ci sia sta. Com'è ti gusto carinao, maestro vincino, maestro vincino, pronti, scopi...